Il forno a vapore è davvero uno strumento versatile. Sì, abbiamo cotto le verdure, il pesce, abbiamo preparato anche un dolce buonissimo, il melaccio. Cavolo, pieno di frutta. E la frutta può essere anche questo, un dolce, un dolce preparato nel forno a vapore. Come in questo caso, sono delle conserve, perché noi possiamo preparare anche queste, eh sì, avete capito bene, dove sono partito dalla frutta a crudo. Quindi pesche, albicocche, pere, ho aggiunto semplicemente dell'acqua e via. In forno a vapore 10-12 minuti, si è creato il sottovuoto, si è sterilizzato, si è cotta la frutta. Abbiamo tutto veramente nell'arco di pochi minuti e abbiamo sì, i gusti della nostra estate da tenere anche per l'inverno. Veramente un prodotto versatile, l'ideale per una cucina semplice, sana e saporita.